Aveva solo la genialità della pittura, era il suo Dio. Un uomo diverso da tutti quelli che noi definiamo oggi normali, ma certo con una grande capacità creativa. Era un uomo disperatamente solo che cercava la sua verità. Tornò a Gualtieri dove sono stato Antonio Ligabue. L'urgenza del dipingere. Attraverso il lavoro, la pittura, imparato il mestiere di vivere questa vita così ingrata verso di lui. La sua realizzazione è nell'opera. Non riusciva a dare una risposta a chi sono io. Aveva tutto, però era infelice, era infelice sicuramente. Era un genio misterioso. Non essere artista gli è servito, l'arte l'ha salvato.